Miriam Silla, il termine di Italia-Stati Uniti 1-3, peccato, due set non bene, poi una bella reazione nel terzo. Sì, comunque nel terzo set abbiamo dimostrato che con un po' più di concentrazione e un po' più di costanza possiamo comunque giocarcela contro una squadra come gli Stati Uniti che è campione del mondo e dispiace un po' perché alla fine abbiamo mollato un attimo, ma da una parte siamo soddisfatti perché abbiamo dimostrato che anche noi ci siamo. Felice anche per te, sei entrata molto bene in partita. Sì, ero carica perché nel senso ho guardato i mondiali da casa, adesso arrivare qua e giocarci contro, le cose erano due, o avevo paura o tiravo fuori tutto e mi è andata bene, ho tirato fuori un bel po' di roba però poi ho sbagliato qualche cosa, mi dispiace però dai, sono felice lo stesso, abbiamo dimostrato di essere toste, gli abbiamo dato del filo da torcere veramente perché abbiamo finito a 15, cavoli, e quindi basta, siamo felici e domani è un altro giorno.